Tutti ignari di tutto all'isola dei famosi, soprattutto Pamela Camassa, che ancora non sa nulla, ma nella serata di lunedì, cioè nella serata della puntata che faranno stasera, sarà festa all'isola. Cosa è successo? In pratica, gli altri naufraghi storceranno un pochino il naso, dovranno anzi incassare e abituarsi a questa brutta notizia, quando Ilari Blasi la comunicherà a tutti quanti. Ancora manca l'ufficialità, ma tanto manca poco e sapremo tutto per certo, ma tutti gli indicatori paiono chiari e difficilmente ci sarà un cambiamento rilevante nel risultato finale. Una vera e propria gioia per la compagna di Filippo Bisciglia che spera di arrivare fino alla finale del reality show come del resto tutti quanti. Indubbiamente il nome di Pamela Camassa è uno dei più rilevanti all'isola dei famosi e ora vuole mantenere alte tutte le aspettative che ci sono su di lei. Nelle prossime ore scopriremo anche l'eliminato dal programma, che uscirà fuori da questi naufraghi, proprio Pamela, Nathalie Caldonazzo, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corincleri. Ma tenuto conto dell'ultima notizia sulla modella difficilmente lascerà l'Honduras. La notizia è stata comunicata dal sito Novella 2000, titolare di un sondaggio molto importante che ha visto il trionfo di Pamela Camassa. Per gli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi non c'è stata storia, infatti sono rimasti tutti alle spalle della donna. Malissimo ad esempio Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian dei Alisse, che hanno totalizzato 0,1% delle preferenze. Corincleri si è fermata al 3%, mentre Nathalie Caldonazzo, Luca Vetrone, Fabio Ricci e Andrea Locicero al 4%. Parliamo del sondaggio riguardante il naufrago preferito della settimana. In terza posizione si è piazzata Elena Prestes, in coabitazione con Cristina Scuccia, appaiate al 9%. Alle spalle di Pamela Camassa si è posizionato Marco Mazzoli col 25% dei consensi, mentre la compagna di Bisciglia ha conquistato il 28% dei voti dei lettori di Novella 2000. E ora c'è enorme curiosità per comprendere quali saranno le reazioni dei compagni. C'è attesa per capire cosa accadrà in studio e non è da escludere che anche Cristina Scuccia sarà una delle grandi protagoniste della puntata, dato che nei giorni scorsi ha espresso il suo grande desiderio di diventare madre. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.